Bentornati cari amici a Radio Puggino NER in questo episodio andiamo ci immergiamo ancora nel mondo dell'Eurovision nelle interessanti dichiarazioni di Cristiano Margioglio riguardo alla finale imminente ascoltate bene perché Margioglio ha fatto una promessa e non so se siete curiosi o no di vedere cosa farà Margioglio se dovesse vincere Angelina Mango questo Eurovision allora Cristiano Margioglio è noto per la sua personalità eccentrica e le sue dichiarazioni audaci ed ha espresso un forte sostegno per Angelina Mango naturalmente tutti lo sappiamo rappresentante italiana all'Eurovision Song Contest di quest'anno questa sera c'è la seconda semifinale in cui per la prima volta partecipano anche coloro che sono già stati scelti per la finale come l'Italia l'Inghilterra la Francia ed altri paesi dunque stasera Angelina Mango si è esibita sul palco dell'Eurovision 2024 e noi ve lo abbiamo raccontato in altri episodi che mi invito ad andare ad ascoltare insomma Cristiano Margioglio non solo si dichiara tifoso di Angelina Mango ma va oltre facendo una promessa a quanto bizzarra e inusuale in caso di vittoria della giovane cantante afferma infatti di essere pronto anche no anche di essere proprio pronto a spogliarsi di fronte a solo due mettendo insomma dinanzi per coprire probabilmente certe parti intime solo due tulipani dunque completamente nudo con questi due tulipani ispirandosi al suo gesto passato con i maneskin se Angelina dovesse portare a casa la vittoria dunque una promessa che sicuramente sta attirando l'attenzione dei fan e degli spettatori dell'Eurovision inoltre Margioglio si è soffermato sulla canzone presentata da Angelina Mango descrivendola come particolare ed unica rispetto alle altre in gara a suo parere Angelina sta emergendo come una vera pop star pronta a conquistare il palcoscenico europeo con la sua musica e la sua personalità tuttavia Cristiano Margioglio non è nuovo a controversie e critiche nel contesto dell'Eurovision nel 2002 quando rappresentò l'Italia all'evento le sue osservazioni su Chanel Terrero cantante spagnola generarono un acceso dibattito e persino polemiche internazionali Margioglio tuttavia sembra aver superato queste controversie dimostrandosi un sostenitore appassionato ora di Angelina Mango e non delle altre partecipanti non di altri o delle altre partecipanti Margioglio da giudice di successo per esempio ad amici ha sottolineato l'importanza del talento e della grinta delle donne partecipanti all'Eurovision di quest'anno per lui questa edizione sembra essere femminile e caratterizzata da voci eccezionali e una determinazione palpabile tra le concorrenti mentre dunque ci avviciniamo alla finale dell'Eurovision 2024 le aspettative sono alte e le emozioni sono palpabili Cristiano Margioglio con la sua passione contagiosa e le dichiarazioni spregiudicate aggiunge un tocco di vivacità e intrigo a questa edizione dell'evento restate sintonizzati sul radio Puginion Air per ulteriori aggiornamenti sull'Eurovision e altre notizie musicali vedremo se davvero Margioglio si spoglierà se e se Angelina Mango vincerà questa edizione non solo dunque dopo essere stata la prima al festival di Sanremo 2024 ma anche la prima in Europa lo vedremo insieme noi saremo qui per aggiornarvi in tempo reale su ogni novità grazie per essere stati con noi al prossimo episodio di Radio Puginion Air